Con Circular South cerchiamo le nuove soluzioni proposte da start up e progetti di ricerca del sud Italia nell'ambito dell'economia circolare. L'obiettivo del progetto è quello di riuscire a connettere nell'ottica di open innovation le innovazioni con le aziende interessate a diventare più sostenibili e ad adottare queste soluzioni. L'idea di concentrarsi nel sud Italia, nel centro e sul d'Italia è perché in questa parte dell'Italia c'è ancora molto da fare i termini di da una parte miglioramento della raccolta differenziata dove noi diamo una mano ai comuni per migliorarla e dall'altra parte riuscire a incentivare le buone idee che vengono e possono essere sviluppate. È fondamentale investire nella economia circolare perché è un tema ormai al centro di tutto quello che viene sviluppato nel tessuto economico di qualsiasi paese a livello globale. La challenge di Circular South è caduta proprio a pennello perché noi abbiamo bisogno di networking, abbiamo bisogno di essere introdotti a quelle persone che poi effettivamente implementano le soluzioni innovative in termini anche di circolarità all'interno delle aziende e quindi è stata una grandissima opportunità proprio di networking e di aggancio con potenziali clienti e user persona specifiche in azienda. L'evento di Circular South ci potrà aiutare perché creerà delle connessioni e un network tale da aiutarci ad aggredire i nuovi mercati oltre quello del beverage dove siamo già piazzati. Siamo qui a Circular South perché grazie al networking speriamo di trovare i partner giusti che ci possano aiutare in questo percorso. Mi porto a casa sicuramente tante emozioni, tante persone, ho conosciuto tante persone, ho conosciuto questa realtà che si propone appunto di mettere in contatto le start-up e le aziende con dei bisogni di innovazione ma direi che mi porto a casa soprattutto il fatto di aver conosciuto altri otto start-up che come me credono in un futuro migliore e ci mettono tutta l'energia che hanno a disposizione per mettere a terra le loro soluzioni. Dopo la premiazione della migliore start-up l'idea è quella di provare ad aiutarli anche a incontrare chi in qualche maniera può investire sulle loro idee.